Ciao ragazzi, il numero di Blossoms in Spring è online, è tutto dedicato alla città di Budapest, per cui fioristi e persone super creative, andate a sfogliarlo. Ma in questo video volevo raccontarvi qualcosa in più su Cristina Colli, lei è una fotografa italiana che vive in Inghilterra, guarda queste sono le sue immagini, la trovi su Facebook e su Instagram, è fortissima, ha tantissimi followers e io l'ho conosciuta appunto online, cioè su Instagram. Volevo dirvi questo, cioè non pensate che online sia solo tutto virtuale, noi ci siamo incontrate l'anno scorso in Inghilterra, sono andata a casa sua, abbiamo cenato insieme, il giorno dopo siamo andati a visitare due parchi, insomma è stata una giornata bellissima. Ci sentiamo spesso con Skype e volevo raccontarvi di più su questa particolare foto, cioè lei fa dei corsi online che si chiamano Visual Storytelling, io ne ho fatto uno l'anno scorso, mi sono trovata benissimo, mi piace tantissimo come insegna, e da lei ho imparato appunto a fare bullet journal che poi sono diventati gli inspirational journal che adesso intanto vi state scaricando. Quindi era per dirvi di cercare sul suo sito il prossimo corso di Visual Storytelling, intanto vi lascio alla rivista, ciao!